Annuncio robis, gaudium magnum, abemus papam. L'ex arcivescovo di Buenos Aires, Iorghe Mario Bergoglio, è il 266esimo Papa e ottavo saurano dello Stato Pontificio. La scelta del nome, Francesco I, potrebbe essere ispirata ad un altro grande gesuita come lui, San Francesco Saverio, sacerdote della Compagnia di Gesù, evangelizzatore delle Indie. L'elezione del cardinale Bergoglio, la scelta del nome e le origini latino-americane hanno davvero suscitato sorpresa nel mondo. Bergoglio, ricordiamo, risultò comunque uno tra i più votati del conclave del 2005, in cui fu nominato Papa Benedetto XVI. Dalla biografia di Bergoglio emergono alcuni dati, se vogliamo, oscuri. Nell'Isola del Silenzio, libro del giornalista argentino Horacio Verbischi, dedicato al ruolo della Chiesa Nazionale degli Anni della Dittatura, risulta che Bergoglio, come superiore della Compagnia di Gesù, abbia segnalato alle autorità civili come sovversivi due sacerdoti suoi sottoposti, sacerdoti che furono così arrestati e torturati per diversi mesi. Verbischi ha anche sostenuto di avere trovato prove dell'appartenenza del prelato alla Guardia di Ferro, un'organizzazione della destra peronista. Sembra che il nuovo Papa non abbia mai ammesso le responsabilità che gli sono state attribuite in merito. Molti associano però una lettera apostolica che l'ex arcivescovo scrisse nel trentesimo anniversario del colpo di Stato, in cui si denunciavano le violazioni della dignità umana e il disprezzo per la legge e le istituzioni che contraddistinsero l'epoca della tirannia. L'occasione è propizia affinché, come argentini, ci pentiamo una volta dei nostri errori, per assimilare l'insegnamento della storia nella costruzione del presente. Papa Francesco è noto per la sua frugalità, rievoca la via dell'umiltà e della semplicità evangelica, la via tracciata da Cristo, povero e crucifisso. Questo però non significa che sia particolarmente aperto al mondo del terzo millennio. Bergoglio, infatti, si è opposto con forza ai matrimoni omosessuali, definiti progetto del demonio, ed è intervenuto nelle competizioni elettorali argentine invitando a dire no all'ateismo. Fa capolino dagli archivi una dichiarazione del 2007 dell'allora arcivescovo di Buenos Aires in riferimento alla candidatura alle presidenziali argentine di Cristina Kirchner. Le donne sono naturalmente inadatte per compiti politici. L'ordine naturale e i fatti ci insegnano che l'uomo è un uomo politico per eccellenza. Le scritture ci mostrano che le donne da sempre supportano il pensare e il creare dell'uomo, ma niente più di questo. E per rincarare la dose, il Cardinal Bergoglio sottolineò inoltre come non bisognasse, dopo aver già avuto una presidente donna, ripetere quell'errore.